Paolo, che carattere è questa squadra? Grande cuore, il primo tempo penso che sia stato il più brutto del campionato. Perché secondo te? Perché non avevamo l'atteggiamento giusto, i ragazzi non hanno interpretato la partita come dovevano, non hanno capito all'inizio l'importanza e la difficoltà di questa partita, però dopo il secondo tempo, grazie anche alla bravura del mister che ha saputo ridisegnare la squadra e al grande cuore della squadra abbiamo saputo ribaltare il risultato, penso che sia stato un risultato fantastico. Adesso? E adesso domenica un'altra finale. Un'altra finale, insomma una partita tosta contro la San Giustese che ha pareggiato a Notaresco. Ma adesso le partite che stiamo vedendo sono tutte difficili, la San Giustese è una squadra forte che sa giocare bene a calcio, speriamo. Un po' in difficoltà però in questo giorno di ritorno, malgrado i tanti rinforzi del mercato di dicembre. Sì, ma noi dopo la domenica becchiamo sempre quelle che sono difficoltà e che si vuole riprendere con noi, però noi dobbiamo continuare il nostro cammino, speriamo di continuare così. Dos Santos, citazione di merito, si è procurato il rigore, poi ha ribaltato il punteggio grazie a un suo guizzo, insomma sembra quasi un corpo avulso dal contesto, poi però si vede e si sente. È un ragazzo che un'altra settimana si allena al 101%, che dà l'anima, poi mi ha fatto una promessa, quindi la deve mantenere. Qual è? Non la diciamo, diciamo a fine anno. Però sono già 16 in campionato, 12 col Francavilla mi pare. Deve arrivare almeno a 16 con il Francavilla, poi vediamo. Che cosa farà la differenza in questo finale? Perché restano sei partite, testa, cuore e gambe, come si dice in gergo, oppure? Adesso ci vuole soltanto il cuore, soltanto cercare di arrivare all'obiettivo, di raggiungere quello che per noi è la gloria, non è il risultato che ci cambierà la vita, però per tanti di noi ci darà tanto per il futuro. Non abbiamo visto il presidente, è comunque soddisfatto? Beh, presumo di sì. Presumo, quindi significa che non l'hai incrociato a fine partita? No, a fine partita lui va sempre via un po' prima, lo facciamo un po' tanto agitare, quindi preferisce sfogarsi andandosene.